Prosegue a Pescara Porta Nuova la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid, in particolare agli over 60 e ai fragili. È possibile effettuare anche la dosi anti-influenzale. C'è da dire che in questa sede vaccinale si utilizza però solo il vaccino Moderna e c'è chi vuole informazioni sulla opportunità di fare il mix, magari per chi ha fatto le prime due dosi Pfizer. Il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale dell'Asra di Pescara, però rassicura. Questo mix è possibile? Assolutamente sì, le linee guida del Ministero dicono che la terza dose è indipendente dalle prime due dosi, per cui chi ha fatto la prima dose Pfizer o Moderna può fare viceversa o Pfizer o Moderna. E a chi dice che però ci sono gli eccipienti diversi? Posso rispondere che abbiamo fatto circa 500.000 vaccini, di cui 300.000 Pfizer e 100.000 Moderna e non abbiamo avuto nessuna reazione allergica né con l'uno né con l'altro. L'età? Attualmente stiamo vaccinando ancora gli over 60. Le notizie che abbiamo è che dal primo dicembre inizieremo a vaccinare anche le persone sotto gli 60 anni. L'importante è che siano passati sei mesi dalla seconda dose. È possibile fare vaccinazione covid e vaccinazione anti-influenzale insieme? Sì, è possibile farla nei centri vaccinali, fare tutte e due contemporaneamente, una su una spalla e una sull'altra. Diciamo che l'outlet di Città Sant'Angelo resta comunque aperto con Pfizer e Moderna e poi ci sono altri due centri vaccinali per l'Asra di Pescara. Sì, c'è sia Scafa sia Penne, dove anche lì fanno sia Pfizer che Moderna. L'unico centro dove facciamo Moderna è questa della prestazione di Scala Porta Nuova che per motivi logistici ci permette attualmente di fare solo Moderna. Dottore, a Novax come siamo messi? Ma i Novax sono veramente pochi. Le altre persone sono persone che hanno paura, bisogna comprenderle e spero che abbiano un colloquio col medico di famiglia o possono venire anche qua nelle sedi vaccinali per dirimere ogni dubbio. E per quanto riguarda i suoi colleghi che magari tentennano sui vaccini, anche perché l'Asra domani mi sembra dovrà prendere una decisione. Allora cosa vuole dire? Di venirsi a vaccinare. Purtroppo l'Asra deve tenere fede alla normativa presente e che impedisce al personale sanitario che non si è vaccinato di continuare a svolgere le proprie funzioni sanitarie. Dunque, sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Esatto, sì, sospensione dal lavoro e dallo stipendio.